Bene, proveremo a texturizzare una foglia e a importarla su OpenSIM quindi seguendo un po' quello che abbiamo detto le altre volte proveremo a cancellare il cubo e a provare a inserire un piano quindi Shift A mettiamo il piano e questo piano lo dobbiamo aggiungere della geometria io ho visto che si poteva farlo col Ctrl R facciamo Generate UV così abbiamo la visualizzazione delle texture gratuitamente e cominciamo a metterci l'immagine della foglia sopra per andare su OpenSIM non c'è bisogno di usare i nodi quindi salteremo la parte dei nodi e mettiamo direttamente l'immagine però ci saranno alcune piccole cose quindi prima di tutto ci prendiamo lo spazio per vedere l'UV Image Editor e ci cominciamo a prendere la foglia la foglia, la apriamo, abbiamo questa foglia Leave Forefront e questa sarà la nostra texture che vogliamo appiccicare questa foglia dicevo non dobbiamo preoccuparci dei nodi perché quando poi porteremo su OpenSIM le parti trasparenti verranno automaticamente mascherate senza bisogno di fare nodi quindi per fare ciò dobbiamo sicuramente fare l'unwrap della foglia l'UV Map eccetera magari giusto per averla già finita cominciamo ad andare in Object Mode in questa foglia e gli mettiamo già un pochino di vertici in più per metterci vertici in più abbiamo visto che si poteva fare con la CTRL R in realtà abbiamo anche un'altra possibilità che è quella di mi sembra che sia CTRL V no, era VW si può fare la Subdivide facciamo Subdivide e poi vedete che taglia automaticamente in 4 ma noi la tagliamo con 3 tagli in tutte e due le direzioni quindi diciamo che questa è la nostra modalità ora lo vediamo dall'alto ok ricordiamo che possiamo vedere dall'alto con 7 e tastierino numerico o con CTRL 7 vedete lo vediamo dalla parte opposta infatti adesso vedremo alcune piccole osservazioni ok allora facendo in questo modo vedete che lui ci ha in realtà già fatto l'UV Map cioè l'UV Map è stata già spezzettata quindi ci abbiamo dovrebbe già andare bene quindi in realtà se noi a questo punto l'abbiamo già caricata la foglia? se noi carichiamo la foglia la foglia risulta caricata sul top 5 mettiamo ortogonale e quindi per vederla possiamo vederla o con il rendered non ce la fa vedere quindi ah perché dobbiamo segnarla ancora quindi facciamo questo piccolo passo quindi andiamo in Cycles ok e poi andiamo sul materiale ci assegniamo il materiale che è la foglia usiamo i nodi e nel colore ci mettiamo image texture e la texture ci mettiamo la nostra foglia ok vedete che la foglia è effettivamente visualizzata si vede maluccio qua in blender ma si capisce che c'è quindi questa è la cosa che ci interessa di più se volessimo vederla un pochino meglio possiamo applicare il trucchetto di andare sulla lampada usare i nodi diciamo che la lampada la possiamo vabbè adesso qui 100 vogliamo farla sun e mettiamo 4 ok e quindi abbiamo la foglia ben vista quindi già così noi in teoria potremmo prendere questo oggetto con questa texture e portarla su craft e lo facciamo subito così vediamo un pezzettino per volta quindi questa qui sappiamo che è texturizzata d'altro si può vedere anche il material solo una cosa adesso la prendiamo siamo in material prendiamo questo piano e lo esportiamo export con l'ADA operator preset openSIM static e lo chiamiamo foglia video prova 1 export collada quindi a questo punto noi abbiamo in sintesi il collada di questo oggetto quindi noi entriamo adesso in openSIM farò vedere che prendiamo questa foglia e la scarichiamo quindi tutto in tempo reale firestorm vi ho detto che è quello che ci interessa ok andiamo in craft dove facciamo tutte le nostre cose e entriamo dentro vedete che c'è tutti i suoi tempi magari forse taglierò queste parti ma comunque l'idea è che dovremmo entrare bene bene ci siamo quindi noi siamo nella nostra aula albero dove avevo caricato le foglie vedete queste qua già nella prova di stamattina ma noi andiamo dove possiamo rezzare e cioè in edu3ds oppure anche se vogliamo in una sandbox sandbox test ci sono delle persone sandbox test 2 non c'è nessuno andiamo in sandbox test 2 ok ctrl shift y per mettere giorno e poi proviamo a fare l'import quindi facciamo l'upload della nostra foglia quindi mesh model allora il modello l'abbiamo messo in realtà credo nei documenti foglia video prova 1 punto dae la carichiamo con open ecco qui vedete che abbiamo tutte le informazioni questa qui chiamiamola foglia video parte 1 c'è la prima prova che facciamo la tiriamo su magari questa qui e la foglia come appare alt qui non si vede un gran che perché è completamente piatta ma dovrebbe uscire quindi facciamo calculate weights and fees upload e abbiamo foglia video parte 1 la rezziamo vedete che adesso si è rezzata e a questo punto dovremmo metterci la texture la texture come ho spiegato spesso nelle risposte viene importata parte quindi bisogna proprio importare la texture che avete usato per le vostre cose quindi build upload image e qui andiamo dove abbiamo tutte le nostre cose quindi sotto d downloads dovrebbe essere qua sotto blender no ho sbagliato andiamo a vedere dove ce l'abbiamo quindi ce l'abbiamo in sintesi qui l'abbiamo visto che era sotto downloads materials chapter 2 e quindi andiamo qua downloads materials chapter 2 e abbiamo questa famosa texture front l'apriamo vedete che appare la nostra foglia e la nostra foglia è a tutti gli effetti tutta bellina come l'abbiamo vista e con questi quadratini che vuol dire che è trasparente quindi leave 4 front upload e noi abbiamo la nostra recent texture e leave 4 front a questo punto la texture può essere messa direttamente sulla mesh ci piego un attimo andiamo a vedere che cosa diventerà la nostra foglia vedete che la foglia è venuta quindi così è già un bel punto di partenza facciamo edit la portiamo in alto vedete che fa l'ombra e proviamo a vederla dal basso e qui abbiamo la prima sorpresa questa foglia si vede soltanto da un lato perché si vede soltanto da un lato e questo perché le mesh hanno sempre un senso vi ricordate che abbiamo parlato di normali la normale è qualche cosa che esce verso l'esterno e in questo caso se noi andiamo a vedere la nostra texture questa e qui adesso ci appare texturizzata a tutte e due le parti ma non è quello che è succede abbiamo visto in second life o in open sim se noi vedessimo le normali qua vedremmo e dobbiamo vederle in edit mode le normali vedete che escono verso l'alto visto che escono verso l'alto quello che ci stanno dicendo le normali vuol dire che si vedranno soltanto da questa parte da qui non escono normali e quindi non si potrà vedere niente e questo è l'effetto che abbiamo sperimentato qua e cioè che se noi con control vediamo dal basso non vediamo niente quindi la prima cosa è di cercare di far vedere l'oggetto anche dal basso e questo lo otteniamo facendo e qui fate bene attenzione che faremo quindi mettiamo 7 e cerchiamo di vedere questo piano cercheremo anche di farlo doppio quindi vediamo anche di farlo da parte di sotto uno dei metodi più semplici per vederlo anche dal basso è quello di aggiungere un modificatore che si chiama solidify solidify praticamente prende quello che è una labina e la raddoppia quindi se noi aggiungiamo il solidify e poi in object mode facciamo l'apply a questo punto forse voi non ve ne siete resi conto ma abbiamo aumentato il numero di facce e tendenzialmente abbiamo praticamente sia la parte di sopra che la parte di sotto impostata quindi andando in edit mode vedete che adesso abbiamo le normali che escono anche verso il basso se ci fate caso vedete che ci sono delle normali che escono anche lateralmente e questo è importante cioè questa foglia non è fatta soltanto dalla faccia di sopra o dalla faccia di sotto ma ha anche delle facce laterali e sono queste che andremo adesso a vedere con calma ok quindi andiamo sette le vediamo di fronte e sette la vediamo di fronte e proviamo a vedere come è diventata l'uvimap quindi come facciamo andiamo innanzitutto in modalità faccia e proviamo a definire queste qui sono delle facce che mi rappresentano praticamente la parte superiore della foglia vedete è a posto ora se facciamo ctrl 7 quindi facciamo a togliamo facciamo ctrl 7 vedete che vediamo la foglia dal fondo se selezioniamo le facce vedete che anche queste facce risultano mappate sulla uvimap quindi noi abbiamo praticamente le facce di sotto che sono mappate sulla foglia e le facce di sopra che sono mappate sulla foglia anche e fin qui andrebbe anche bene ora facciamo una bella cosa qui e mettiamo uv selection niente dovrebbe essere ok queste qui le mettiamo sincronizzate quindi se noi facciamo selezioniamo tutto dovremmo avere sia tutte le facce che sono mappate su questa foglia e in particolare quindi se noi adesso facciamo shift tasto destro togliamo tutte le facce questo significa altro per didatticamente vedete che togliendo le facce in questo caso di sopra in realtà rimangono delle facce selezionate che sono quelle di sotto le togliamo anche loro ok vedete che in realtà qui sono rimaste ancora delle cose selezionate quindi la parte selezionata che abbiamo adesso facciamo S la restringiamo queste qui praticamente sono tutte le facce laterali e poi la spostiamo in un posto trasparente questo perché altrimenti quando poi andremo a fare la la texturizzazione completa queste facce praticamente disturberanno ora già così potrebbe essere a posto non lo so facciamo vedere quindi adesso abbiamo cambiato solo la UVMAP quindi è cambiato di fatto il modello il modello è un posto dalla struttura di facce e dalla strutturazione di questi di queste ragnatele che sono qui sulla destra che sono la UVMAP quindi dobbiamo avendo fatto modifica la UVMAP dobbiamo andare a risalvare la foglia però visto che ci siamo andiamo siamo sempre in edit mode proviamo a rendere la foglia un pochino più quindi andiamo siamo in edit mode selezioniamo i vertici selezioniamo questo vertice e proviamo a rendere A contro Z ecco vedete che adesso sono appunto due facce quindi dobbiamo se vogliamo selezionare anche i vertici di sotto abbiamo due tecniche o con lo Z oppure con questa opzione che permette di selezionare anche i vertici nascosti quindi faccio B così e così vedete che seleziono due vertici vedete che qui dice due vertici selezionati e poi possiamo modificare leggermente qui possiamo mettere anche di proportional editing che ci permette praticamente di modificare la foglia in modo proporzionale quindi facciamo una foglia che è un pochino un pochino modificata ok quindi abbiamo ok vediamo una foglia che non è proprio piatta però adesso vedete che abbiamo selezionato facciamo contro z contro z quindi facciamo b per selezionare qua a b selezioniamo qua ok e poi b selezioniamo qua ok quindi siamo sicuri di selezionare il piano sia sopra che so vedete che abbiamo fatto una sorta di foglio qui togliamola normale abbiamo già visto che sono buone ok quindi prendiamo questo foglio con questa texturizzazione e la portiamo di nuovo in open sim vediamo se è a posto perché non è detto che si è a posto quindi la facciamo in on file export collada documents e questo facciamo abbiamo foglia video prova 1 dai facciamo foglia video prova 2 andiamo in open sim facciamo un word facciamo un anzi build scusate upload mesh model andiamo sotto documents foglia video prova 2 vedete che è un pochino più complicata perché è più come è il doppio perché c'è le due facciate cioè sia la partita che la parte di sotto facciamo open ok qui mettiamo pure nel medium use load above ci permette di vedere la foglia anche se siamo l'altro qui texture come se la fa vedere no quindi come dicevo è meglio non non caricare la text insieme facciamo foglia video prova 2 calcoliamo i pesi e il costo la upload e la mettiamo di nuovo qui in second life in open scene vedete che a questo punto è bianca però vedete che è già un pochino diversa dall'altra ah mi sono dimenticato che forse conviene farla e questo dovevamo farla mentre eravamo in blender conviene dirgli in object mode conviene dirgli smooth vedete che essendo smooth diventa più diciamo non si vedono le separazioni fra i quadratini quindi facciamo a questo punto una prova 3 quindi export con l'ada mi hanno detto foglia video smooth ok quindi tiriamo su anche questo questa prova upload mesh model foglia video smooth sembra uguale foglia video smooth gli mettiamo use load above nel medium facciamo calculate upload foglia video smooth e la mettiamo a fianco ora quando si deciderà da visualizzarla spiegare un attimo nel frattempo che arriva ci mettiamo la texture in quella di prima vedete che abbiamo messo la texture e la foglia diventa vedete è già carina in realtà la foglia video smooth non è arrivata comunque nel frattempo andiamo avanti questa vedete qual è la differenza fra questa foglia e l'altra foglia che abbiamo fatto è che questa appare un po' più realistica perché è diciamo curva mentre invece questa è completamente piatta ma soprattutto se la guardiamo dal basso la vedremo vedete la mia vista giusta quindi abbiamo le nostre due foglie quindi questa foglia storta carina ma che già bella bello qui cominciamo a fare un po' di trucchi di texturizzazione quindi per la texturizzazione andiamo in edit andiamo sulle caratteristiche no sulla textur e qui possiamo dire full bright full bright la mette già luminosa cosa vuol dire luminosa vuol dire che se noi fossimo notte quindi world sun position midnight vedete quella foglia che abbiamo inserito prima è rimasta scura e questa invece è illuminata chiaramente è più naturale la foglia che non non ha una luce dentro quindi questa è più vera quindi questa in teoria dovrebbe essere messa come ci aspettiamo e quindi non full bright ecco e così diventa più naturale l'altro pezzo che volevo farvi vedere è come senza node editor si possono mettere la normal map e la specular map su questa foglia come si fa semplicemente andando in edit abbiamo nel texture abbiamo la possibilità di definire la normal e la shininess però prima ce le dobbiamo caricare quindi facciamo build upload image e andiamo a caricarci le due immagini quindi di downloads matelas chapter 2 e ci carichiamo la la front questa la normal map e la specular che è questa ok io l'ho già fatto quindi non lo rifaccio adesso però basta cliccarlo e tirarla su no sento che io ce l'ho già nel mio inventario contro lì sono qua vedete che c'è la bump è la normal posso metterle nella foglia semplicemente andando sulle caratteristiche della foglia qua andiamo sulla bump e qui clicco qua e vado nel textures e abbiamo la normal map questa faccio ok e ce l'ho caricata e poi vado nella specular e anche qua faccio lo stesso mestiere ma ci metto la specular map quindi la specular map è front specular questa ok e quindi ho fatto tutte e due quindi a questo punto questa foglia è dotata sia di sia di specular che di normal map però fate attenzione che non si vedono ah dovrebbero vedersi adesso in teoria purtroppo il problema è che qui su open sim le specular map si notano un po' di meno rispetto a blend rispetto agli altri giochi questo è un po' un piccolo dramma di di questo però si possono vedere un pochino meglio se creo un oggetto quindi creiamo un un oggetto gli diamo una forma asferica la texture di questo oggetto la mettiamo bianco e il materiale anche gli mettiamo un blank ok quindi questo qui lo facciamo una specie di luce e gli diciamo light quindi questo emette luce ok quindi questo qua ci permetterà di vedere vedete che quando passo con questa luce sopra la foglia la foglia si prende le sfumature di colore eccetera in realtà nel frattempo vedo che qui sono arrivate anche le foglie sfumate quindi magari ecco questa qui era vedete quella abbiamo fatto lo smooth quindi ripetiamo la stessa cosa con con questa foglia smuttata per vedere le differenze quindi la mettiamo molto vicina a questa foglia ok la mettiamo sotto la luce così vediamo i riflessi vedete che questa luce produce un riflesso qua e ci mettiamo la nostra texture quindi la nostra texture la possiamo mettere sul front quindi front la mettiamo lì vedete che abbiamo la nostra texture ok quindi vedete che questa al momento non ha la bump map se noi vogliamo metto in realtà dato che è già molto ben fatta c'è la texture già bellissima che fa vedere le bump map non si vede benissimo l'effetto ma l'idea qui di darvi il modo di farla andiamo sulle texture e qui possiamo andare sul bump e qui aggiungiamo textures gli mettiamo il front n ok e questo dovrebbe già introdurre un piccolo 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 differenza e poi gli mettiamo le textures anche la specular map ok allora abbiamo detto che questo modo di inserire le specular è quindi questa è diciamo per vedere le ovo vedete che passandogli sopra vedete che si illumina progressivamente e quindi si ottiene questo effetto vedete che è più naturale il modo in cui lo shading cambia mentre invece in questa qua lo shading appare un pochino più meno naturale perché non era stato fatto lo smooth quindi la la lezione consiste nel la lezione di oggi consiste fondamentalmente nel ricordarsi di fare lo smooth eh e di e di pilotare opportunamente la bumpiness che corrisponde alle normal del nostro corso e la shininess che corrisponde alla specular poi c'è anche un video che ho pubblicato sul facebook dove ci sono degli esempi un pochino meno sofisticati ma più didattici fate riferimento a quello quindi per il momento io direi che per farvi vedere come importare gli oggetti in con le mesh con le immagini è tutto ah solo una cosa ricordatevi avete visto che io ho importato le immagini le texture indipendentemente dalla mesh e questo è una cosa che vi consiglio caldamente caldamente e questo è una cosa